salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di botland enchanted edition bene andiamo pure a fare quella quest di livello 18 dell'arena adesso dovremmo farcela senza accessivi problemi e vediamo se è vero speriamo ok certo che se non avessi sbagliato quei talenti cioè non è che sono un po più sbagliato ma in questo momento non mi servivano mi servivano altri però pazienza andiamo pure eccoci qua siamo quasi arrivati e speriamo bene adesso ho la mia bella armina che fa un po di più e questo fa sempre bene ecco qua siamo arrivati è stato facile stato veloce il dolore chi è mamma mia che palle è ma sono provolta però si non ho preso questa una strontata queste qui sono cacate queste cose ok è questo veloce a sparare ma una vita a caricare ci mette sono salito un altro po di questo cavolo di coso perché 9 quasi 10 interessante mi fa più danno dopo mi è più veloce a caricare più veloce a fare tante cose a meno l'inculo più veloce a caricare e fa più danno di poco un per cento ogni volta però insomma dai sì dovrebbe essere un per cento ogni volta sì perché 9 è già 9 per cento 18 invece il doppio della velocità di ricarica che non è male e il doppio dell'intensità di fuoco intensità dipende di cosa intende non facciamo capire andiamo e spieghiamo bene stavolta devo farcela non dico livello perché no però forse andavano a livello andiamo qua ok però non mi fare queste cose qui ok dai però l'avevo preso che miseria anche questa ci si mette adesso e non mi salta e non mi salta e non mi salta e non mi salta che sono ascolucinanti questi cosi basta ok è morto oh cazzarola no ok l'ho evitato ecco qui e anche questa è andata vieni qua miserica incredibile ok è andata ce ne sono degli altri mi sento eh ah no si è messo davanti ok ok questa è andata ce l'ho dietro oh cazzarola va bene va bene qui facciamo così facciamo così facciamo così dai non li ha preso ok fammi andare via santo è bisogno mi tocca fare giocare così mi tocca porca miseria che testa di cazzo ma no oh no porca vacca oh non riesco porca miseria e basta oh ho liberato l'arma cosa buona fatemi vedere visto che ci sono cosa mi dici no ancora 9% però 24 la ricarica beh quello mi interessa molto vediamo se c'è qualcosa di buono ah ho finito è quello che sperava fuoco va molto random la cosa ho notato cioè dipende come li gira eh vabbè pazienza dai abbiamo fatta questo è l'importante eh cosa mi dai non mi dici niente mi hai dato combo trifle vero si mi hai dato combo trifle e non ho più missioni ne hanno tolta una ne sono più che sicuro peccato vero peccato era bello era bello quella cosa è più davanti di compresse diverse vabbè paziente è utile a piangerci sopra non so perché l'abbiamo fatto erano diverse comunque le cose non mi ricordo oh peccato bravissimo tu si che sei un uomo ecco facciamo così questa è questa è da provare quando ho 4 slot la voglio provare è una cosa che voglio questa è 6 36x12 quello che facciamo adesso questa qui è il combo trifle dovrebbe essere il combo trifle 12 ah vediamo subito se ha più di 12 è il combo trifle 15 si è questo vedete che questa qui è un arma da 12 proiettili su mio 15 perché ho quel potenziamento che dicevamo vedete dove cazzo è qui dice che ha 12 colpi invece ne abbiamo 15 si si perché è un combo trifle va bene la tengo perché può essere sempre utile quindi si insomma dai va bene andiamo pure avanti abbiamo fatto anche questa quest perché sono tornato nell'arena non lo so così giusto per andiamo via e facciamo quel di sledge che sembra che sia di livello più basso ma in realtà dopo è molto tosta perché lui ha un fucile a pompa che è bellissimo veramente una favola perché spara tutti i colpi direttamente in di fila quindi se porta due colpi ne spara due se porta a quattro così via e ha una potenza veramente esagerata infatti quello col potenziamento unito al potenziamento di ampliamento del caricatore è una bomba atomica veramente fa stragi e dà molta soddisfazione il problema è che noi dobbiamo combattere contro di lui che ha questa arma e non sarà facile dove devo andare ma forse è meglio tornare indietro a questo punto andiamo di qua andiamo un po' cerchiamo di non sbagliare sempre strada grazie molto gentile eccoci qua perfetto andiamo ci muoviamo un pochino ecco qua prendiamo la strada più lunga tanto è anche la più sicura sì sì non mi urlare dietro grazie io però sono abbastanza sicuro di aver saltato una quest qui perché c'era un posto qui che non mi ha dato questa quest perché non mi l'hai data non capisco se è in base anche a dove vado io lo voglio fare un attimo scusatemi lo so che sono una palla ma quella quest mi interessava anche perché c'è un bidone della cosa qui un bidone della della come si chiama non mi viene mai in mente questi distributtori anche perché qui non l'ho visto vado un attimo ci vediamo lì a dopo ok ragazzi mi sono ricordato che effettivamente la quest ce la dava più amanti quindi sì ho aperto questa cassa e guardate cosa ho trovato interessante la prima mod questa la voglio prendere è classe soldato mi dà 19 rigenerazione esperienza extra della squadra non ce l'ho abilità schermaglia e sono abilità che mi interessano ok la prendiamo ok adesso oddio scusatemi bene possiamo andarsenevi tranquillamente via scusate se ho divagato ma mi sembra che ci desse questa questa invece poi al fine no non ce la dà va bene andiamo pure via tranquillamente dunque di qua e niente ci vediamo là vi avevo fatto solo vedere che ho preso il mod bene ragazzi ci siamo tutto quello che hai affrontato finora non è nulla in confronto alla sfida che ti attende con Sledge non sottovalutarlo ah che culo grazie di averlo detto andiamo a vedere se c'è qualcosa in giro dai che puoi sempre fare comodo ok ok ah beh molto tranquillo insomma una cosa va bene ti do una moneta ti do una moneta ecco qua ho preso un po' di roba ragazzi così almeno non sono un barbone insomma non avevo niente tutte le volte che siamo morti è porca miserica ok grazie apri questa è fatta e adesso ci dà la vera questa che è di livello 17 ecco perché oh bene sono di livello 19 stavolta mettiamola bene il coso vai lui non me l'abilita lo sapete perché? perché io devo avere almeno 5 punti spesi e andiamo di energia quanta energia ho? adesso 370 vediamo adesso 388 e chi sono io? per dire di no io prima di andare da Sledge che è tosto ammazzato andrei al tabellone di Firestone accidenti dicevo che c'è il teletrasporto vabbè no andiamo dal tabellone di Firestone ragazzi perché Sledge è veramente tosto e vorrei arrivarci preparato anche se sono livello 18 la quarta di 17 non vuol dire assolutamente niente perché lui è veramente forte e amo ti add vedete a meno così se una mappa compare vediamo se è vero vedete eh prima scusate non c'era questa opportunità e io non mi ricordavo mai chi era Cep chi era quell'altro chi era quest'altro così a meno so chi è adesso vabbè lo so perché ci ho giocato tante volte però se voi non lo sapete con questo qui siamo a posto il bidet delle turbine il bidet delle turbine va bene andiamo a fare il bidet delle turbine il bidet delle turbine andiamo a fare è andato andiamo pure qua perché queste quest non dico che ci portano a livello 20 però ci portano verso la strada per arrivare a livello 20 e quello è molto positivo c'è la possibilità facendo queste due quest che da Sledge arriviamo a livello 20 e non sarebbe male adesso vediamo quante quattro c'è da qui se da più di una ci arriviamo sicuro una sola oh giocamaci i marroni qua scusa capito sei morto cioè questo ce l'ho proprio con me non c'è niente da fare allora andiamo un po' dove sono questi posti tutte nell'air badlands vabbè allora non è così improponibile la cosa dunque devo andare laggiù naturalmente a due passi proprio va bene andiamoci andiamoci subito così ve le faccio anche vedere le quest è anche piacere farvele vedere tutte le quest perché può essere sempre utile se uno le vuole fare meno sa cosa cosa si aspetta e tutto il resto ok andiamo pure ok oh non ce l'ho fatta girare col turbo è un casino benissimo andiamo avanti siamo quasi perché mancano a fine pochi metri ecco qua siamo mai arrivati praticamente era dove eravamo prima quasi la parte sopra questa quella è la parte sotto ah si dobbiamo ammazzare loro ah siamo a postolo io figuriamoci se non romperemo i maroni ok perfetto adesso si ricarica purtroppo al nido ce l'hanno qua non so dove siete no no ecco qua ammazzati tutti perfetto io devo fare io userei l'altra io userei l'altra il combat trifle visto che ce l'ho spara mamma mia che schifo spara proprio male vabbè vabbè tanto meno le uso sono gratis alla fine non le uso mai non ma sono lontano o mi prendi per il culo perché cioè avevo un raggio che faceva schifo l'avete visto perfetto questo è ripartito andiamo com'è sto coso perché prima o poi dovrò alla ristretta usarlo questi sono livello 15 non è che siano ah sai che fa male per carità eh però ok si insomma non direi che è buonissimo però ha una buona mira diciamo ok fatto non è la mia preferita ragazzi però in fondo ce l'ho guarda che nel mirino si vede è una chicca bellissima questa si vede dove punta ok andiamo pure a fare l'altra l'altra è invece vediamo un po' qua del bidet è in strada per arrivare a casa ok va benissimo così almeno consigliamo tutti e due e tanti solito al pifero insomma sì meglio andiamo pure ok si passa da qua ah dove avevamo preso il combat rifle che ce lo fa riprendere eh sì strano mi sembra che l'aveva già fatta questa quest con voi buh olio tra virgole grazie grazie molto gentile ah ancora quest'arma che cazzo scusa va fuori è un'altra cosa è questa oh salve non riesco ad andare avanti ma che cazzo eh vabbè è ora di morire sì non lo segno non ti preoccupare ti mi segno tutto ok mi hai ucciso così almeno che cosa bella ok scusa non ho capito bene nell'ultima parola no no scappa a te che io adesso ho da fare qui eh non mi rompo i marroni ecco qua prendiamo un po' di cose grazie sei molto gentile guardate uno è qua oh che cosa bella oh salve ok ok oh che cosa è gradita allora cosa c'è qui niente di che però sono tutte cose da vendere che alla fine fanno sempre bene chi è non lo vedo adesso arriverà non ti preoccupare ho preso un po' di energia qui dovrebbe esserci qualcos'altro mi sbaglio io si è qua è qua si si adesso arrivo non ti preoccupare sta tranquillo che penso anche a te è sempre bello venire riformiti wow wow 73 questa è da guardare questa la prendiamo questa la prendiamo questa la prendiamo io avevo questa che è 130 ok no è per saperci ok andiamo avanti adesso prendiamo l'altro pezzo che è qua ma di sua memoria eccolo qui e adesso ci mancherà uno solo adesso arrivo rilassati che arrivo anche da te ecco qui posto adesso ho salve non sapevi che ero qui e adesso lo sai no colpo critico cazzuto già lo puoi dire forte ok li hai presi tutti grande così possiamo andare a completare a consegnare che è completare la quest e siamo a posto allora il mio non ricordo più da dove sono passato scusate ho i distributori a un nuovo arsenale ok andiamoci a prendere andate che stanno in cielo puntano andiamo pure a consegnarle uno è qua vicino e l'altro è laggiù al nostro solito posto sì allora tanto è in strada e non c'è problema vai pure eccoci qua consegna prima questa così tanto devo tornare indietro quindi sì insomma devo fare per falta la stalla quindi sì allora shepherd tanti saluti ciao è stato un piaciore è fatto vedete che ci stiamo arrivando la dimensione è molto lenta 150 è un peccato perché ha un 43 di velocità di ricarica che è tanto ma proprio tanto però pazienza vediamo pure vediamo che ce la facciamo ok oddio quanto è il mazzo ecco qua siamo arrivati in due secondi proprio dopo taglio per arrivare di là se no ci mettiamo un anno vedete sempre che vanno avanti e indietro ok così almeno siamo dovremmo arrivare 19 e mezzo più o meno credo sì allora ciao sì è un colmo trifle vero no è un colmo ok eh no ci ha dato pochi niente va bene ragazzi faccio un taglio che rivolito dove dobbiamo arrivare fino in dopo eccoci qui bene andiamo pure avanti e fra poco ci salutiamo eccoci qua bene perfettico oh siamo nella zona nuova che bello sono felice qua ci sarà da divertirsi e comunque comunque ci dà questa cosa questo boss ci dà un'arma veramente fantastica io non vedo l'ora di prenderla però sarà duro batterlo però dai piano piano facciamo tutto non basta non basta basta non avere fretta e si fa tutto ok ok oh salve eccoci qua questo è andato questo è andato molto facile questo è andato questo è andato questo è andato cavolo cavolo nonostante tutto mi hanno fatto malo dove sei dove sei finirai di sparare che te no to perfetto carichiamo intanto che lui fa le sue cose si me lo segna non ti preoccupare che adesso mi segno che è ora di morire oh cazzarola si ma mi hai preso da lì mi prendi per il culo eccoci qua top guarda quanto mi hanno dato di esperienza sono felice dai aspettiamo un attimo e adesso andiamo anche dall'altro ciao sono qui oh cazzo non è morto adesso si mamma mia che strage massonica scusate sbaglio il pulsante è la miserica perfetto e chi scappa io sto soltanto rifornendomi esaltare troppo insomma si mi vuoi cucinare sono cannibale allora vediamo un pochino di arrivare da lui dici eccoci qua anche questa è andata ma non essere così insomma sei un po' cattivo allora vediamo un po' cosa c'è di bello porca vacca oh salve che cosa è gradita insomma si vediamo cosa c'è di bello un fucile a cecchino e un coba trifle vabbè pazienza ma perché mi vuole cucinare io non capisco è proprio strano questo tipo allora vediamo tutte le cose che ho lasciato indietro perché comunque io dei proiettili ne ho pochi oh non li trovo più proiettili allora c'è uno che mi continua a sparare e non lo sopporto e basta ho capito a che ora di morire ma rilassati allora è più o meno lì non lo vedo ma da dove tiri mamma mia complimenti eh ragazzo io non ci arrivo perfetto mamma mia che colpo da cecchino mi è piaciuto e l'altro è combat trifle sì ok perfetto prendiamo vediamo se c'è un po' di munizioni oh non mi dai più le munizioni è cattivo è verotto perfetto è andato abbastanza bene diciamo che non mi posso lamentare sì 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 adesso io cerco di esplorare tutto cioè vorrete cioè è piena metà ma va a cacare ma insomma no qua ci sono già passato allora qui c'è un posto per adesso ci salutiamo ma c'è un posto per aprire la cassa la cassa cosa dico il cancello qua ok così siamo a postolo qua c'era qualcosa di interessante sì però facciamo finta che non ci sia questo qui è un po' antipatico ok vediamo se riusciamo a prenderlo dove è andato ma vabbè è che per questo che volevo venire qua io mi ricordavo quella cosina però non bene cosa adesso è un po' che non ci gioco nella tre che avevo fatto mi sembra che l'ho arrivato poco più indietro 20 no quanto spazio avrò nell'inventare ma sì adesso prendiamole 27 94 però è molto più precisa eh grazie il cazzo è molto più precisa io sto parlando di io però adesso pensavo di sono già pieno perfetto allora facciamo una bella coscia andiamo un attimo via ops ops ok chi è ma questo è fuori mamma mia vabbè vado un attimo a vendere e così ci salutiamo lì e siamo a posto intanto qui c'era il vendor diciamo e sono abbastanza contento perché comunque li ho trovati di cose guardate che c'è anche un'altra pistola che mi era sfuggita che andavo subito a usare dopo cioè a usare questa è ancora da valutare questa l'ho presa prima 73 sì sì molto meglio quelle che ho 86 vabbè dai vediamo tutto inutile madonna quanta roba avevo preso ecco qua bene ragazzi dai facciamo che ci salutiamo qui così nel prossimo video andiamo direttamente a finire non lo so se arriveremo a finire il boss però ci proviamo dai tanto alla fine ci sta che muoiono intanto purtroppo questo è un personaggio d'assalto a differenza del cecchino che stai da lontano è un po' più di probabilità di morire ci sono però dai piano piano si fa tutto basta non aver fretta quindi come al solito io vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie e fammi sapere con i commenti appunto cosa ne pensate e io intanto vi do un saluto la sciva ciao ciao